Dovrebbe esserci una concretezza maggiore sulla realizzazione del nuovo impianto delle fonderie Pisano nella zona industriale di Buccino. Lo spero vivamente come sindaco del comune della Valle dell'Irno che da anni vive il disagio legato alla produzione dell'impianto di Via dei Greci che lavora a Ghisa. E' quanto ha dichiarato il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra, che il giorno dopo il tavolo tecnico richiesto dalla proprietà delle fonderie Pisano, con Regione Campani e Comune di Salerno per confrontarsi con i tecci regionali per avviare la richiesta di autorizzazione integrata ambientale, atto necessario per la costruzione del nuovo impianto, auspica che non sia un ulteriore annuncio ma un'opportunità concreta di realizzare un nuovo impianto altrove, lontano dal centro abitato. Si spera che non ci siano altre lungaggini anche legate all'intenzione del comune di Buccino di contestare l'insediamento produttivo, ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco Francesco Morra, che nel frattempo si augura che fin quando il nuovo stabilimento dei Pisano non sarà realtà, si garantisca la salute pubblica e allo stesso tempo si possa avere concretezza dei dati dello studio epidemiologico sul territorio realizzato dall'Istituto Zooprofilattico. Certamente ci vuole un'azione congiunta da parte delle istituzioni ai vari livelli, sia comunali, regionali e governative, anche perché c'è di nuovo, leggevo dalla stampa di oggi, una presa di posizione forte da parte del comune di Buccino ad ostacolare la realizzazione di un nuovo impianto di fonderie a Buccino. Quindi spero che questa vicenda giunga al termine, soprattutto salvaguardando quelli che possono essere i livelli occupazionali, ma soprattutto a noi preoccupa ancora la presenza sul nostro territorio di un impianto molto pesante e importante per garantire i livelli di salute pubblica.